quella ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale siamo su watchdogs legion con il nostro devin mastrolindo e dovevamo decidere che missione fare ora io farei la missione onestamente del clan kelly perché ero rimasto molto incuriosito e poi abbiamo dovuto aspettare parecchio per sbloccare questa nuova missione e quindi vediamo un po vediamo un po come fare no allora l'ho selezionata vediamo dove ci dove ci porta questa missione qua c'è un briefing per l'altra missione noi dobbiamo andare no scusatemi noi dobbiamo andare dove dobbiamo andare ottieni un invito per il clan kelly da un drone fattorino quello è un drone fattorino sì e quindi ma è scusate perché proprio da quel drone fattorino da quello che ci sta facendo vedere lui ok abbiamo fatto cadere il carico del drone fattorino quindi in teoria possiamo andarlo a prendere vediamo vediamo prima che se lo riprenda sì sì ce lo prendiamo noi ok ora è stato facile persino per te dammi un attimo per decifrare i codici di sicurezza allora bugley cosa abbiamo Mary Kelly tiene la sua asta ad Acne Baths una struttura sanitaria pubblica che è stata aperta nel 1904 al giorno d'oggi è diventata più o meno una base del mercato degli schiavi ha parlato di investitori stranieri quindi è roba grossa vuol dire soci clienti impiegati chiunque sia anche remotamente legato all'organizzazione dobbiamo colpire Mary Kelly dall'interno l'ispettore Lau vuole fare avere il fascicolo su Mary Kelly a un suo contatto nell'ufficio del procuratore il che significa raccogliere più dati possibili per assicurarci che abbiano materiale per processarla i microchip sono l'incognita più grossa di un'equazione di cui non sappiamo praticamente nulla ci servono dati concreti su quegli affari cercate di trovare qualcosa schemi ricevute campioni il piano è semplicissimo imbucarsi al party dei Kelly scoprire quanto più è possibile e dettaglio rilevante cercare di non farsi ammazzare difficile quindi dobbiamo fare molta attenzione ad Acne Baths Mary può uccidere i prigionieri premendo un pulsante se proviamo a liberarli ora sono già morti lei non sa ancora che le siamo addosso dobbiamo approfittarne ok in che modo allora dov'è che dobbiamo andare intanto allora noi siamo arrivati ok ci sta qualcuno già ma non è qua dentro l'asta dai piccolissimo sto posto però forse sta proprio qui allora cerchiamo un modo per accedere in maniera diciamo in maniera sicura perché tutti questi insulti in continuazione allora cerchiamo vediamo un po' oh ci siamo siamo dentro servono nomi luoghi date qualsiasi informazione disponibile dobbiamo costruire un caso solido e liberare quelle persone farò del mio meglio allora non c'è ancora nessuno meglio così lo champagne è in ritardo e lo sai che questi ricchi bastardi vogliono ubriacarsi gratis vogliono i loro biberoni sì il prodotto è pronto alla vendita no lei non viene non per questa partita almeno a me va bene così è il capo e tutto il resto ma ecco sì quando c'è lei sono sempre in ansia e sarà per forza del sangue sì eh eh da dopo ok non capisco cos'è che le telecamere dietro i muri eh ma non le vedo queste telecamere ok là ce n'è una avanti guarda l'obiettivo per bene ecco così forza in piedi e girati lentamente non voglio farlo vi prego alzati in piedi cazzo patetico del cazzo non lo vorrà nessuno questo bastardo i compratori si aspettano merce di qualità ok portalo giù aggiorneremo il catalogo e metteremo le sue statistiche online no no mi dispiace farà quello che volete non portatemi lì no e silenzio cazzo ok meglio controllare ci sono buone probabilità che il seminterrato sia chiuso ci sono altrettante buone probabilità che uno di questi cazzoni abbia lasciato in giro il suo codice d'accesso si si basta mi sa grazie per la chiave genio fantastico ok ora fine beh è stato abbastanza semplice eh ma quanti stanno questi abbiamo fatto un po' un casino eh abbiamo fatto un casino lo ammetto ok armiamo tutte le trappole possibili vediamo un po' vediamo un po' cosa si può fare ci stanno altre trappole da far detonare ci stanno ma eh qua però cioè mi sembra che ci sia solo lei quindi alla fine alla fine c'è solo lei qua sotto ah no ah no qualcun altro è sceso vediamo se esplodono da sole con le trappole ce ne stanno due in questo momento di trappole vediamo 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 che se potremmo che se potremmo utilizzare anche la pistola col silenziatore chi che parla qua chiudiamo la porta opla e siamo a due e siamo a due vediamo se scende qualcun altro ok veloce e indolore ma volevo capire una cosa in pratica dove stanno le scale ah sono quelle le scale dalle quali scendono ok 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 in teoria qua sotto non ci sta più nessuno ah qua c'era una trappola ah qua c'è un'altra le scale mannaggia allora ci sarebbe questo documento che possiamo raccogliere e chiaramente sono i prezzi delle i prezzi degli organi che vengono venduti ok andiamo prevedo una missione abbastanza tosta spero di non di non fare disastri con il nostro mastro lindo perché mi sono affezionato questo è assolutamente disgustoso persone che si divertono mentre comprano schiavi come se niente fosse calma se prima di fare qualsiasi cosa non disabilitiamo quei microchip mary kelly friggerà tutto il suo catalogo oh ma che è un bug c'è un bug mi si è mi si è ristretta la la tele cioè la la camera di gioco non lasciare non lasciare che la salute ostacoli le tue ambizioni perché mi si è ristretta la ok è gesù santo locca dorata è il supermercato del dark web di persone e di organi e chissà di cos'altro questo orrore va fermato immediatamente dopo ti converrà lavarti le mani beh qui c'è qualcosa di interessante signora Kelly perché il nostro carico di esplosivi non è ancora arrivato avete avuto il denaro fino all'ultimo penny tesoro lo ammetto per un attimo ho pensato che tu fossi un troll che vive con la mamma e ora cosa pensa penso che siate ben finanziati e che la mia organizzazione potrebbe cacciarsi in qualcosa di terribile penso che il prezzo sia appena raddoppiato la sua reputazione è ben meritata ma possiamo offrirle qualcosa di meglio del denaro e cosa sarebbe? il potere possiamo farla diventare la regina di Londra regina eh? una regina è una soprana a potere assoluto e senza ingerenze sblocchi il nostro carico e Londra sarà tutta sua ma è su riconoscere un buon affare quando lo vedo botti in arrivo state attenti a non farvi male con questo la inchiodiamo è stata Mary Kelly a fornire gli esplosivi per le bombe il che si aggiunge al mercato degli organi è spacciata è un bel colpo di scena quindi Mary non è Zero Day ma è coinvolta devo ammetterlo Zero Day voleva far perdere le proprie tracce e ce l'ha fatta non l'avrei mai sospettato e io sospetto molte cose ricordiamoci cosa siamo venuti a fare ci servono informazioni sull'oca dorata per il fascicolo di Caitlyn Bugly sei riuscito a recuperare dei dati? questo è un semplice mercato ho recuperato degli inventari ma niente che possa fare al caso dell'ispettore hai ragione Bugs troviamo i server tiriamo giù quello che serve a Caitlyn e poi spacchiamo tutto senza tante storie mi piacerebbe moltissimo ma la posizione del server continua a cambiare stanno usando un protocollo a rete interconnesse ci vorrà del tempo per decifrarlo potrei metterci giorni che ne dite del tizio che accoglieva tutti al piano di sopra potrebbe sapere qualcosa sui server va bene ragazzi andiamo mi sono bloccato per un po' con la modalità foto perché questo corridoio è emblematico cioè ha anche abbastanza paura devo dire inquieta abbastanza ok abbiamo finito qua dobbiamo andare da qualche altra parte ah non possiamo lasciare così che ti pareva ho capito ma dammi il tempo mannaggia a te io me ne posso andare no me ne posso andare facile ah no devo salire sopra devo salire sopra ah io me ne stavo andando cioè non avevo capito proprio un cavolo allora qua ci stanno delle scale ok ok allora qua ci stanno ok sto cercando di bloccargli tutte le armi tutte le armi una specie di di cecchino non c'è una telecamera ma quelli sono nemici no ma forse l'unico che è rimasto questo è un altro sicario ok abbiamo ucciso anche un programmatore software vabbè sti cazzi ah che era il supervisore eh io non ho capito dove sta l'obiettivo cioè quindi un po' complesso così oh cavolo ma questo è è cattivo o no no forse no questo è un nutrizionista quindi non credo se no gli rompo il culo eh vabbè eh vabbè tu fatti i cavoli tuoi fratello ok questo è quanto allora quella in realtà è l'uscita noi dobbiamo andare là però siamo fuori portata se ci fosse un se ci fosse una caspita di telecamera aspettate aspettate la possiamo innescare la trappola la possiamo innescare la trappola e quello così lo facciamo fuori da lontano probabilmente vediamo ok là sotto forse c'è qualche altro nemico ok ma non siamo ancora abbastanza vicini mannaggia non siamo ancora abbastanza vicini ma dobbiamo per forza cioè ma siamo vicini dai e qua non ci sta qua nessuna telecamera bell'istinto ho le coordinate dei server oca dorata e come bonus anche del dispositivo di controllo dei microchip sono entrambi alla neo gate bel lavoro buggy ok abbiamo fatto fuori tutti quanti qua c'è altro catalogo online per i per le parti del corpo e robe varie che che vendono sti animali allora io vorrei uscire da qua sperando che non ci siano dei controlli ok forse ce l'abbiamo fatta perfetto uh bene così cioè non ho capito dobbiamo andare dobbiamo andare a scaricare altri dati da un server o salvare sti sti poveracci chiusura del mercato hacker alla rete delle telecamere ok dark web contrabbando le solite cose le solite cose che fa il cranchelli allora spostiamoci rapidamente vicino a questo posto vediamo se possiamo farla safe più o meno safe come l'abbiamo fatta adesso allora ho trovato una potenziale recluta per te ti do la posizione sulla mappa beh il tipo che crea delle trappole ingegnose letali mi ispira visto che noi cerchiamo di fare tutto senza senza rischiare però veramente mi mi scoccio a fare la tutta la pratica di di reclutamento anche perché poi se posso utilizzo sempre la spia quindi neogate non esiste da molto ma domina il mercato degli antivirus scommetto che i Kelly hanno un ruolo in questo successo ciò nonostante stiamo per distruggerlo tutto sentite io voglio quello che volete voi ma prima di distruggere tutto raccogliamo le prove le abbiamo inseguite fino adesso suggerisco di accarare la rete di sorveglianza per farti un'idea allora io vorrei capire una cosa cioè vorrei capire una cosa accarare la rete della telecamera fermi tutti accarare la rete della telecamera che sta là da qua io tra l'altro potrei pure entrare allora qua ci sta questo sarà del clan Kelly è un trafficante sul mercato nero ora questa è un'altra amministratrice dati vabbè qua ci sta molta gentaglia ma noi come ci arriviamo qui c'è una una grata c'è una grata e questo è un è il retro proviamo ad andare lì sul retro dove c'era questa grata vediamo se se riusciamo a fare tutto nel modo più stealth possibile non so però chi ci chi ci controlla cioè per esempio questi due sono buoni o cattivi chi è che ci stava vedendo c'è una telecamera sì ok allora abbiamo ma questi che sono cioè non capisco chi sono quelli quelli cattivi ci sta qualcosa da fare detonare ci sta qualcosa da far detonare qua che ci divertiamo ok due due sono andati intanto due sono andati allora quello l'abbiamo ucciso nel diciamo nel dubbio che fosse buono o cattivo l'abbiamo ucciso salve sono roger morris sto creando questo diario audio nel caso che le attività che si stanno svolgendo in questo edificio venissero alla luce molti di noi hanno notato una serie di attività discrete e ben organizzate ma comunque sospette che si verificano settimana dopo settimana non c'è quasi comunicazione tra noi e i piani alti questa settimana ho notato alcuni grandi carichi passare direttamente da battle bridge all'edificio mi sono incuriosito e ho discretamente aperto uno dei pacchi era pieno di componenti informatici ma non c'era traccia del carico nei registri e non risultavano nemmeno le altre merci arrivate di recente continuerò a indagare sperando che le mie peggiori paure su quel che sta succedendo non si rivelino fondate oh ma questo proprio ora doveva uscire questo stronzo allora facciamo una cosa mettiamoci qua sperando che nessuno ci venga a trovare mentre noi siamo dentro con il nostro spider fork abbiamo visto che c'era un modo per arrivare al nostro obiettivo però non so se non so se questa sia l'unica strada io spero solo che nessuno venga da noi ok cerchiamo di non farci scoprire caspita qua però è chiuso qua è chiuso allora aspettate aspettate ce la possiamo fare ce la possiamo fare allora siamo quasi arrivati ok dai bravissimi vedete perché poi non voglio utilizzare altri gadget cioè è troppo utile il nostro robot questi feed arrivano da un semi interrato sotto la stanza dei server vogliamo darci all'intrattenimento leggero? un cocktail di sostanze sai cotulino con otossina succini il colina ma tanto non sai di che parlo giusto? ci ho messo un bel po' per trovare il giusto mix non vorrei uccidesse troppo in fretta o contaminasse gli ore oh mio dio è dove impiantano i microchip dove li testano Bugly salva il filmato finirà nel mio fascicolo eccone un altro mi fa piacere sapere che siano attenti alla pulizia è bene evitare le infezioni eccone un altro in esame sono le forti convulsioni causate dai microchip e le preoccupazioni circa la possibilità di danneggiare merce preziosa in particolar modo gli occhi i riscontri indicano che la microcarica potrebbe essere il problema sebbene i danni al tronco cerebrale inferiore siano minimi sono sufficienti a causare forti convulsioni basta così Bugly non riesco a sopportare tanta crudeltà gratuita effettivamente è un po' uno schifo eh avrà un girone speciale per la gente coinvolta in quest'operazione ora hai tutti i dati dell'oca dorata e anche questi video inoltre sai che Mary ha messo lo zampino nelle bombe ce n'è abbastanza per incastrarla lo spero adesso pensiamo a fermare questo schifo e a disabilitare i microchip fantastico ah non abbiamo finito cavolo perché mi ha mi ha fatto tornare qua allora tacci suoi e forse però stavolta ci devo andare ci devo andare di presenza mi sa là sotto anche se là sotto noi eravamo scesi mi pare cioè noi qua siamo sotto ok il problema è che non posso disattivare qua sta roba non posso hackerarlo? quello sono io vediamo se si può fare il giro da qualche parte andiamo andiamo ma perché sono così incazzosi? che è successo? chi ha scoperto cosa? spero solo che non mi vengano a trovare e ora di smantellare l'operazione di Mary Kelly vediamo se ce la facciamo vediamo se ce la facciamo vediamo 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 ah mannaggia a chi dico io dai che non ci ha visto dai che non ci ha visto ho capito ma come faccio ad hackerare sti server da qua ah attenzione attenzione però forse ci stanno venendo a cercare fuori eh quello potrebbe essere un grosso grosso problema se ci vengono a cercare fuori è un problema la so cazzi ci dobbiamo rifare tutta sta strada ahia c'è qualcuno? perché ci ha ci ha fatto tornare fuori? poi scusate ma io da qua non posso entrare quasi quasi io entrerei da qua oh Dio mio e mo? ok e e adesso? non vedo niente non vedo niente io allora sblocchiamo un po' un po' tutti sti sti cosi ok e cos'altro? cos'altro lo dobbiamo sbloccare basta direi che ci siamo ce l'abbiamo fatta? cazzo cazzo sono venuti a prenderci porca vacca i microchip sono fuori uso credo proprio che l'oca dorata del clan Kelly sia fritta bugli fratello perché fai certe battute? vattene prima che ti succeda qualcosa mi stanno ammazzando fai te scappa 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 siamo lentissimi siamo lentissimi abbiamo quel che ci serve oh ce l'abbiamo fatta andrò subito dal mio contatto nell'ufficio del procuratore non c'è tempo da perdere per Mary Kelly è la fine grazie non deluderci Caitlin che rischi che rischi c'è ancora un sacco di gente che ha il microchip dobbiamo aiutarli a breve Mary Kelly si renderà conto che i suoi schiavi personali non sono più schiavi ma potenziali testimoni dobbiamo fermarla prima che li trasformi in cadaveri una volta per tutte non possiamo rischiare che accada a costo di ostacolare i piani di Caitlin dobbiamo aiutare le persone che sono ancora in pericolo la roccaforte dei Kelly è alla Sandstone Residence l'ho segnata sulla tua mappa ok ok questa l'abbiamo completata con molteplici rischi perché proprio quando avevamo finito giustamente ci hanno scoperti mentre eravamo fuori allora ragazzi ragazzi allora dobbiamo affrontare Mary Kelly come penso ultima missione del clan Kelly quindi forse lo faremo nella prossima nel prossimo episodio così che completiamo questo capitolo credo adesso andremmo troppo per lunghe quindi io direi che ci possiamo salutare vediamo se qualcuno ci interrompe parlando come sempre e ci possiamo salutare io vi ringrazio per la visione ho trovato una potenziale recluta per te ti do la posizione sulla mappa vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto ed iscrivervi al canale a seguirmi anche in live sull'altra piattaforma e niente io appunto vi ringrazio ancora e direi che ci possiamo vedere al prossimo video un saluto a tutti ragazzi ciao ciao ciao